Prevenire e contrastare i tentativi di truffa a danno delle persone anziane attraverso attività di formazione e informazione è l'obiettivo al centro del progetto Anziani in Sicurezza. Questa mattina al Palazzo del Governo la sigla del protocollo d'intesa con il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il prefetto Carlo Torlontano alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine. Questo protocollo l'abbiamo firmato con il signor prefetto, servono ad attraversare un guado per mettere a riparo le persone che hanno maggiore difficoltà e quindi come tale per evitare che ci sia questo contraccolpo nei loro confronti e quindi con maggiore tutela e con maggiore garanzia di sicurezza. Il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno punta infatti a contrastare un fenomeno in aumento soprattutto nella città capoluogo. È un progetto praticamente importante perché va a svolgere un'azione di contrasto verso il fenomeno delle truffe agli anziani che è un fenomeno particolarmente odioso perché colpisce le persone anziane sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo della dignità della persona. È importante anche perché abbiamo avuto soprattutto nel capoluogo un innalzamento di questo fenomeno negli ultimi tempi quindi speriamo che con questo progetto si possa mettere in atto un'azione volta a infrenare il fenomeno.